Questo è un kit da scavo e in questa collezione ci sono 6 dinosauri e ognuno ci possono trovare soltanto uno, questo abbiamo il primo questo il secondo così quest'altro che però non mi riesce a mettere a fuoco bene e questi ultimi 3 all'interno si presenta così c'è questa pietra che si deve tagliare e scavare e questi strumenti qui sia la pietra che gli strumenti sono in una plastica e così si presentano togliendo la plastica e se ho comprato questo oggetto non è per per giocare o per istruirmi a scavare ma l'ho comprato perché sono interessata al dinosauro non importa quale vi trovi ci troverò ma mal che vorrei disegnarlo o a penna oppure ci vorrei fare un quadro ma lo farò possibilmente con il colore a matita acqua e labbra oppure i pastelli a olio ma più che altro prima di tutto vorrei farlo a penna con la penna blu poi quando lo aprirò ci farò un filmino anzi fare il filmino direttamente con il disegno o con il disegno con il quadro ma più probabilmente ci farò un disegno con la penna blu